I commercialisti napoletani festeggiano al Riva Club di Bagnoli la chiusura dell'anno professionale. Una serata di divertimento con un occhio al futuro, dopo un anno ricco di eventi ed iniziative e in vista dei prossimi mesi di lavoro che si annunciano intensi e complessi. L'ordine napoletano non nasconde però le proprie ambizioni. Come ordine di Napoli tiriamo un primo bilancio semestrale, tante iniziative, tanti eventi, tante iniziative sociali. Sicuramente sono molto soddisfatto del nostro operato, del nostro consiglio, del gruppo che abbiamo intorno, 150 persone, 500 persone in questo momento compongono le commissioni di studio. Quindi credo che sicuramente questo primo semestre può essere considerato abbastanza positivo. Certamente puntiamo a migliorare ancora e cercare di venire incontro alle difficoltà che i professionisti in questo momento vivono. Si chiude un anno sicuramente difficile, forse ci aspetta un anno difficile, di grossi impegni professionali. L'ordine di Napoli in particolar modo si è adoperato affinché specialmente per i giovani si possa fare qualcosa di concreto. Siamo a disposizione delle istituzioni come sempre. Abbiamo organizzato questa festa a coronamento anche di un anno di attività che è iniziato a primo gennaio, e ci ha visto impegnati in tanti eventi. Quindi diciamo stasera ci goriamo questa festa che è meritata per tutte le attività e tutte le esperienze che abbiamo fatto all'ordine. Quest'anno abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo rinnovato il consiglio, abbiamo nuove energie all'interno del consiglio. Noi cerchiamo di mettercela tutta e andare avanti. Alla serata hanno preso parte un migliaio di professionisti ed esponenti della società civile. Erano presenti il past president dell'ordine Achille Coppola e testimonial dell'associazione Mille Coulour, Franco Porzio e Patrizio Liva. E proprio i due olympioni ci hanno premiato, curiosamente, la squadra di calcio dell'ordine, che quest'anno ha conquistato il titolo di campione d'Italia nel campionato di categoria. Volevo ringraziare proprio il gruppo che è stato qualcosa di più di una semplice squadra di calcio, è stato proprio un gruppo di amici e proprio per questo secondo me abbiamo vinto a dispetto anche di una struttura atletica che sembrava inferiore agli altri, ma la forza del gruppo ha dato qualcosa in più che non poteva che farci vincere. Un ringraziamento fortissimo va al grande presidente, lo chiamiamo noi, Mario Razzano, che con me ha portato avanti questo progetto. Il segreto è stato quello di fare un grande gruppo, fondamentalmente, non dico contro tutti, comunque un irreguizzo di ragazzi nella sofferenza e poi piano piano insomma nella vittoria finale, che è stata l'apoteosi, forse è stata la peggiore partita della finale che abbiamo giocato, ma da un punto di vista emotivo è stato qualcosa di favoloso. La nostra iniziativa parte proprio con questo obiettivo, quello di aiutare soprattutto tanti bambini della nostra città che non hanno la possibilità di fare sport, quindi attraverso la nostra associazione possono venire tranquillamente e dare anche la possibilità a quegli atleti d'elite che per mancanza di struttura, come è successo pure a me, sono costretti ad emigrare dalla propria città.